Inaugurato nella serata del 4 dicembre, Exposicili 2015, l'evento fieristico organizzato dallo studio Geo di Enrico Palazzo e d'Ambra Renda, Wending & Event Planner. La Kermess quest'anno è stata organizzata a Nicosia nel parcheggio dell'ex educatorio ed avrà una durata di tre giorni, un fine settimana dedicato al giorno più bello. La tenso è struttura di 800 metri quadrati, messa in piedi dall'organizzazione, ospita all'interno 46 tra espositori, partners e corners. Si possono amminare i diversi settori, dedicati al mondo del matrimonio, fotografi, agenzie di pubblicità e tipografia, mobilifici, sartorie, riabili da sposa, abbigliamento e gioielleria provenienti da ogni parte della Sicilia. La manifestazione prevede diversi eventi, intrattenimento e spettacolo saranno al centro dell'attenzione con il sottofondo musicale ed i commenti dei DJ di Radio Onda Libera. Particolare attenzione verrà rivolta alla lotta alla violenza su donne e bambini attraverso la Onlus Demetra, ospite della manifestazione. Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco di Nicosia Luigi Bonelli che si è complimentato con l'organizzazione ed ha visitato gli stand dei diversi operatori economici.